per continuare a scrivere anche questo settembre solitario senza pioggia la luce liquida del sole mi bagna il vento mi asciuga e il tempo in cui i ricordi di giorni mai vissuti si affannano più assidui come un'anima inquieta vado senza meta e leggo nel vento nuove ispirazioni per il mio lavoro allora non ho più bisogno di errare lungo le spiagge umide all'alba e pallide di luna non cerco più nella bottiglia la traccia che sciolga questa vita che mi tiene da sempre per continuare a scrivere mi basta abbandonarmi nel tiepido sole di settembre o andare senza meta decifrando ricordi di qualche primavera tramontata commento l'ispirazione quando è tale nasce dalla collimazione del corpo fisico con il piano astrale e con il piano mentale fino ad arrivare quando l'ispirazione è molto elevata alla mente super normale che è la porzione della mente contigua alla coscienza grazie a tutti